Una officina meccanica completamente abusiva, sconosciuta al fisco e alla camera di commercio e di conseguenza senza alcun contratto di smaltimento dei rifiuti tossici come gli oli esausti delle auto, proprio come quello che è stato sversato sulla strada in zona Medassino e ha condotto la polizia locale sulle tracce del meccanico fantasma. Giovedì mattina gli agenti stavano svolgendo un sopralluogo dopo la segnalazione di pericolo dovuta proprio all'olio motore sparso sulla strada. Da un controllo approfondito, spiega il comune, è emersa la presenza di un'auto officina completamente abusiva ricavata in un box auto e nell'area circostante. I locali sono stati posti sotto sequestro mentre per il titolare è scattata una sanzione amministrativa da 15.000 euro e lo stesso è stato denunciato per assenza di autorizzazioni, iscrizione al registro della camera di commercio e all'albo delle imprese artigiane e anche del necessario contratto di smaltimento dei rifiuti speciali.